io non so neanche perché ma tu hai dato un senso alla mia vita ebbene si ragazzi ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono JamesRash ed oggi benvenuti su The Lisa The Hopeful un fangame creato da un tipo di nome Taco Salad iniziamo quindi si lo so non ho fatto un'introduzione all'inizio però sapete perché? perché no? allora questo è un fangame è il primo fangame di Lisa che porto sul canale e spero che vi possa piacere so che questo gioco questo gioco allora ci sono due fangame importanti nel mondo di Lisa uno è Lisa The Pointless e l'altro è Lisa The Hopeful avrei voluto portare Pointless prima ma aspetterò per l'update per il monster update e quello lì l'ho già giocato per conto mio mentre Lisa The Hopeful non l'ho mai giocato per conto mio vabbè so più o meno come sarà la storia però non ne parlerò adesso e lascerò che il gioco la spieghi conto su voi tre per riempire il dannato il dannato serbatoio e se ci fosse non pensavo che io sarei rimasto qui tutto sudato in questo posto in questo posto affoso sperando di trovare un ottimo un ottimo bicchiere ghiacciato di succo di donna ma che se ne frega chi lo sa quanto quanto ci impiegheremo prima di trovarla aspetta basta basta fare i cazzoni Cyclops Lengs sì e Beltboy presente andate andate a andate a cercare un po' di di benzina per questa dannata macchina e dovete metterci poco avete sentito Rodriguez andiamo vamos allonsley Rodriguez quindi Godspeed voi maledetti voi maledetti inutili stronzi Godspeed devo pensare un attimo a che voce dare a questi qui quindi sapete dove non lo so trovare della benzina Lengs pensa pensa di essere in un vecchio team di calcio il tuo capo ti ha appena messo e questo è è il è il trofeo è la partita per il trofeo Stanley non abbiamo bisogno questo qui secondo me è quello che ha la voce più da stronzo si capisce già non abbiamo bisogno di di cianciare vogliamo soli fatti oh oggi oh già beh la risposta è ovvia dietro di noi che cosa c'è eh Rodriguez niente benzina esatto e cosa abbiamo davanti a noi non lo sappiamo allora andiamo allora andremo davanti a occhi chiusi e troveremo della benzina senza senza sprecare tempo andiamo ragazzi se facciamo se facciamo un buon lavoro almeno una volta e magari Rodriguez ci lascerà anche avere un turno l'hai fatto l'hai fatto sembrare inquietante già era era un po' inquietante non è vero beh comunque andiamo il sole il sole sta sciogliendo la colla che ci sono nei miei capelli colla l'enx e cyclops si sono messi in linea oh puoi correre oh ok devo un attimo ricordarmi come sono i comandi ok abbiamo beltboy l'enx e cyclops non abbiamo nessun oggetto a quanto pare equipaggiamento nessuno a lui un applauso cosa fa un applauso ok una mossa immagino o per baffare o per healing saltare quando quando ah vabbè si queste cose le sappiamo premi la barra spazzatrice per salire e giù barra spazzatrice giù per scendere terry inz mamma mia bon terry faccio un suggerimento effetti oh li ho fatti io anonymous aspetta fammelo leggere allora taunt si drink hangover è nuovo ok cool super cool scared nascosto oliato strano si a quanto pare possiamo anche possiamo anche drogarci o qualcosa del genere yo sembra che tu possa reggere un sacco di dolore vuoi provare qualche tipo di settaggio relativo al dolore no grazie signor gambe fighetta fa un culo pace ok vabbè ciao ah vuoto oh bottiglia fantastico ma questo qui è geese se vedi questo questo tipo dal lungo collo dal becco stai lontano va bene cosa c'è non possiamo passare va bene bene comunque devo essere sincero non sembra fatto male riteniamo che questo appunto è un fangame dashing ma alcuni di loro alcune persone sono molto più sono più hanno più il fisico du roll per correre rispetto ad altri e se tu non sei un vecchio sei un vecchiaccio ciccione premi la batte premi shift e inizi e inizierai a correre se tu corri verso una un dirupo tu salterai sembra leggermente diverso a quello di buddy vabbè vediamo salvataggio vai salviamo vediamo un po' ciao buddy il mondo può essere salvato trovatela secondo me lì sotto c'è qualcosa cosa dice questo scappare se tu sei contro un nemico terribile orribile puoi provare a scappare stai attento che alcune volte non puoi scappare quando è grigia l'opzione vuol dire che devi essere coraggioso non avere paura brave boy hins è morto ok ehi amico non fare battute riguardo a queste cose è maludicato stai cercando per benzina basta che segui questo ponte e segui i cartelli stai attento però c'è un tipo tosto là davanti mi ha dato mi ha fatto sanguinare il naso va bene dire allora di andare prima qui credo devo essere sincero non è fatto male questo gioco profumo sobbiamo i classici danni ouch ok qua cosa c'è ok carne domestica qua non sembra che possiamo passare ovviamente dato che è un gioco di lisa e allora comunque questo gioco ho sentito molte cose buone a riguardo dicono che tipo sia il secondo fun game migliore il primo ovviamente è pointless sono curioso di sapere che cosa che cosa avrà in serbo questo gioco per noi comunque sì lì sì lì decisamente c'è qualcosa ok lo sapevo ok spicy perfume cosa c'è da dirci ma che diavolo ah figlio di puttana torna indietro tornate lì indietro a trovare il gas dannati dannati per di tempo ok facciamo un attimo che salvarò una seconda volta bam ok wow che ponte lunga oh yogurt masters ok ah mi ricordo come dimenticarsi dei nomi che danno ai tizi ok cyclops tu non è nulla ok non credo serva tu non hai nemmeno la barra vabbè strano ok ok oh was oh che figo quelle pistole oh 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 anche cyclops questo sarà diventerà un casino già lo so ok e da un sacco di tempo che non gioco un gioco di lisa e immagino che sarà divertente so che appunto questo gioco è è considerato molto un bellissimo gioco io direi di provare a fare questo perché sempre se non ho capito esatto questo dovrebbe darci della salute nemmeno i miei calci erano abbastanza a quanto pare no 360 non scopo va bene allora sei quel tipo di tizi va bene addio è stato bello ah giusto c'è un'altra oh guarda gas ovvero benzina forse avrei dovuto correre comunque ho sentito anche dire che ci sono tipo un sacco di finali segreti bugiardo davanti prova a buttarti le combo si questo qui lo sappiamo grazie tu cosa vuoi questo posto è noioso tu sei noioso io sono noioso ma oh ma la gioia rende tutto più più bello ecco prendi qui le cose renderà le cose molto molto più interessanti hai ricevuto della gioia ecco allora parlando appunto di finali alternativi ce ne sono un sacco dobbiamo stare come dire dobbiamo stare attenti perché ci sono un sacco di finali e non so sinceramente come si fa ad ottenere certi finali perché appunto non so cazzo di questo gioco oltre al fatto che esista vedremo di ottenere un finale magari alla fine della prima partita direi di farne un paio in più per vedere gli altri finali cadere come puoi immaginare come avrai già potuto capire cadere da un dirupo può fare molto male se è possibile è possibile che tu possa anche diventare una poltiglia di sangue rossa se tu puoi sbattire contro il parente il pavimento se tu sei fortunato ci potrebbero anche essere suggerimenti dei hints per mostrare dove potresti cadere guarda prima guarda prima di buttarti va bene mi butto grazie oh cacchio però oh wow oh wow ehm l'hanks non può solo in combattimento chiaro non voglio usare questo dannazione oh figlio di puttana no non farmi combattere contro morti shidders ehm ok wws oh mio dio ehm 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 quanto è rush ah ITP tu wwwa e quanto cos'era lui wws ok ok wwwa non era w oh ho già sbagliato ehm wws wws nani cosa scusè ehm li ho girati mmm partiamo bene ok ww wws ok oh mio dio dove ho preso quell'arma è wwwa no aspetta non è ww what ehm aspettate un secondo eh questo è wwws ma ww a-a-a ma vaffan ok wws e w-a-a ok d'accordo ok mi sto iniziando un po' sto iniziando un po' a capire come funziona ehm applauso w-a-a ok mamma mia diventare un casino ricordarsi tutto wwws ok vai piano piano beh sarò dannato sembra che il mio sembra che il mio che la mia anatra si sia cucinata si sia cotta amici wow questo è un termine che non ho mai sentito in vita mia però ok ok what's that oh ho capito dove ci porta ehm come si correva già ok va bene sono curioso appunto di vedere dove ci porta ehm voglio anche sapere una cosa ehm ditemi ragazzi siete ditemi se siete sarete interessati in questa serie perché io probabilmente la porterò non dovrebbe essere molto lungo ehm dovrebbe probabilmente dovrebbero essere probabilmente una decina di episodi almeno per una prima run ehm quindi si ehm sono curioso ditemi che cosa ne pensate di questo gioco qua ha detto di provare a buttarsi ci proviamo ma si vaffanculo ero male che ho salvato da poco d'accordo non possiamo fidarci di tutti da quanto pare ehm quindi si ditemi cosa ne pensate di questo gioco perché io probabilmente lo vorrei portare continuare a portare ehm si spero che ne valga la pena innanzitutto cosa porta dove porta questo uh spooky ehm facciamo che andare prima qui sotto che anche è qui è piuttosto spooky ok partiamo già comprendendo una bottiglia aia ok oh ok va bene abbiamo le shadowy figures ehm vai qui vai qui eh no possiamo fare così allora vediamo se mi ricordo oh mio dio oh no non incazz... oh porca miseria ehm WWF no ho sbagliato ho tremuto per sbaglio solo una volta capita nella vita pam lui non può neanche attaccare porca porca miseria meno male che Lenks non infligge niente di danno interessante è comunque la meccanica di Cyclops che in pratica si costruisce il TP mentre oh porca miseria ehm si costruisce il TP mentre attacca ok easy fastidioso ma easy allora prova a salire di qui eh ok no non provare a salire di qui qua c'è qualcosa no non puoi scendere oh mio dio quanti ce ne saranno ehm no devo fare così normale che l'ho fatto porca miseria ehm WWF ok madonna con il 360 no scope ok magari se non ci fa incazzare nessuno potremmo anche farcela senza perdere tanto tempo ok WWS e ok fatto fuori e salgono anche di livello takeover palla di fuoco ok e skullcracker ok e anche una diet coccola cola un misteri jerky ok quella ci servirà molto ah ci porta qui sopra va bene ok mi piace una delle cose che mi ha sempre mi è sempre piaciuto di Lisa come gioco oh è morto sì l'avevo capito è morto ok cosa fa aumenta l'evasione ok va bene e anche so ok però facciamo quello normale palla di fuoco ok facciamo però che attacca sola e basta abbiamo skullcracker S A A A A A A allora W W S e S A A oh stunna anche wow buono far che mi serve un altro ok ok pam pam in verità posso fare perché S e poi altre A W S S A e tante A mi si mi piace un sacco la meccanica di Cyclops ci sta un sacchissimo mi piace oh musica di Lisa The Joyful ecco vai chi sei tizio sexy hey ho un patto per te 30 riviste e ti lascerò passare eh va bene eh quante ne ho 98 possiamo provare ma è bloccata ma dio sei morto amico aspetta un secondo no no ora ti uccido amico artichoke no ehm fai un po' di salute a belt poi direi no era VVS wops cavolo ehm non volevo fare l'altro però mi son confuso d'nazione ehm tu attacca normalmente tu vops d'nazione 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 di gioco cyclops non avrei voluto usarla adesso però e tu attacca con sa ehm v us ok stavo per fatto giusto tu gli dai a mangiare e poi S e A tante A ma proprio tante nessuno piace ehm nessuno apprezza più un buon imbroglio oh e tutti salgono di livello almeno questo ottimo ehm sempre bloccato immagino si non ho neanche ricevuto la rivista indietro vabbè almeno la prossima volta staremo un po' più attenti ad accettare qualcosa da degli sconosciuti eh direi di fare un salvataggio qui stavolta è morto lui si che è morto fancy perfume wow è morto oh ok illuminatevi pure oh wow è schifo questo cosa dice niente va bene vediamo cosa abbiamo qua eh riesco a fare questo salto ho appena salvato oh e lì c'è un campo ok ok non riesco a fare questo salto non riesco a fare un po' più sopra tipo da qua no non riesco a farlo meno male che ora lì c'è un posto dove riposarsi lasciare uno dei tuoi eh amici a rimanere di guardia e mentre eh lascerà tutti gli altri di riuscire di riuscire a dormire tranquilli stai attento che questo vuol dire che quello là non tu riuscirà più a dormire oh fantastico buona sapersi proprio adesso fantastico sì eh Cyclops perché immagino che dormire recuperi anche l'SP e lui ATP quindi direi così ok figo scappare scena no 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 che scena quindi siete mai stati ragazzi con una ragazza prima d'ora già e com'è dipendo dalla ragazza quindi le ragazze possono essere anche cattive già pensi che la ragazza che andremo ad incontrare sarà buona sembra sembra un po' giovane per essere buona ad ogni tipo di cosa bellboy l'hai mai fatto beh nah seriamente non non hai fatto lei non ha fatto mai niente con te lei oh già riguardo a quella ragazza non era così ok immagino che fosse pre flash tutto quello che è successo che avrebbe senso in effetti posso usarlo una seconda volta solo per curiosità ah non posso d'accordo tu chi sei oi mi hai fatto prendere un colpo oh ciao quali sono i vostri nomi barra 1 barra 2 barra 3 l'ho detto perché ora vi uccido ok chiunque tu sia sleek geese man ok oh mio dio povero cyclops ok eeeh uaa si si al pelo ho proprio riuscito a farlo oh non fare incazzare cyclops no non è una buona cosa eh dagli un po' di salute dagli un po' di salute e fai v v vs ok ah almeno ha beccato lui cos'è protetto cos'è protetto eeeh il difeso un nuovo difeso non lo so sinceramente proviamo una palla di fuoco eeeh v vs oh wow zero di danno oh ok a quanto pare ha il suo punto debole come ogni vecchietto sono le palle di fuoco ok mi dà fastidio il fatto che non ingegge niente di danno però almeno questo si l'amore è un campo di battaglia oh ok non finisci neanche la frase va bene certo che prendo la zuppa quante bottiglie vote ho eeeh ancora quattro ok una shop e orsi e qua c'è qualcosa no nulla non riesco a fare quel salto quel salto quindi nemmeno ci provo qua c'è uno shop e qua c'è l'altro tipo che era eeeh quello lì che costava 500 riviste in lisa che non mi ricordo ancora come si chiama clint olympic ecco ricercato vivo o morto ciao ciao ah se questa è una voce da vecchietto ciao volete qualcosa? penso di sapere che cosa volete no non scherzava non scherzava eeeh ah si a length magari misteri jerky ne ho zero quindi magari due non farebbero male una diet coccola cola magari una eeeh questo qui per non voglio non voglio prenderlo tornate presto no mi fai paura io ovviamente proverò a fare una run in completo joy joyless perchè non mi piace usare la gioia la gioia eh scusa volevo fare questo giusto ok proseguiamo è vuoto hai sentito qualcuno respirare? boh oh c'è della oh fantastico oddio idioti anche se fa male lo devo ammettere è parecchio è parecchio incredibile che quel tipo è riuscito a stenderci tutti e tre allo stesso tempo dove dove siamo? in qualche tipo di fossa sembra puzza di riviste riviste vattene via stanno 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 cercando di 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 pigliarmi il culo oh merda loro sono pervertiti what horn dog serio ok vvs vvs ok esegui v ho sbagliato più che in ovviamente sa ma il v e tu secondo me riesco a fare un sa un vs si che c'è la fama che è grande che sei cyclops ok un andato fantastico proviamo a far fuori tutti lo stesso madonna lo schiaffo più potente del mondo com'era? u a a oh che figo passa quello a fianco oh l'ho incazzato spero che muoia ok fantastico ok oh che schifo mi ha dato un fazzoletto non voglio sapere come l'abbiano usato è morto è morto ok oh ci sono altri wow quanti ora che miseria si è girato mi sono preso un colpo vabbè non che sia un grosso problema farli fuori S e tanto A oh porca miseria ah almeno ha funzionato grande what? ha fatto il suono di una scimmia oh mio dio che cosa è infietante ok comunque qui non sembra ci sia nulla bisogna solo aspettare che questo passi oh mi insegue no voglio la bottiglia aspetta ma porca miseria speravo speravo vabbè ehm prego muori ehm S e tanto A si piangi dannato you will not have my boobs che ma che cos'è incredibile tanto a fare suoni di scimmia è un what? oh ok ok qua bisogna schivare la roba una diet co-cola una diet co-cola? oh porca quanto mi ha tolto eh un pochino qua non sembra ci sia nulla ci sono anche i barrel boys non so se affrontiamolo tanto se sono uguali ai passati dovrebbero essere parecchio deboli almeno spero ok almeno abbiamo stunnato ok dovrei poterne fare un altro esatto non è ancora morto eh non vorrei usare SP in questo momento sinceramente ok infatti non serve non è servito tutti i soliti di livello fantastico twin birds ah tipo cos'è manda a fanculo la gente ok questi qui non danno neanche tantissimo oh oh porno oh bello ora devo far fuori questi tizi come si aspettava uh però non siamo messi molto bene oh questa musica ci sta questa qui è nuova tre stone edgar concrete ok cosa fa questo ass gli provoca ok va bene quindi in pratica gli downtown può essere utile ma non adesso comunque così poca salute non dire di farlo allora questi mi sembrano piuttosto quindi VVS per un 360 no scope yeah boy oh iron body non mi piace ehm V V non ce la farai mai quindi fai il digi per infliggere più danno oh non piangere vai con lens anzi no possiamo fare quello che tu spara tu applaudi e tu cosa devi fare ass ok almeno è facile da ricordare VVS yes let's go with the ass ok un altro applauso e tu fai uno schoolcracker fallo sempre su tre stone su S 69 nice 69 360 no scope ehm S e tante A ok fatto fuori anche qui facciamolo continuiamo a fare la stessa cosa che a quanto pare sembra funzionare ehm ho sbagliato ehm S e tante A fantastico lo posso anche usare la prossima volta ho anche due iron body che bello ehm un altro applauso e a quanto pare devo fare prima un bel culo ovvero ah non è piaciuto facciamo il 360 e poi un bel culo ecco qua ah ok ho fatto anche mi mando a fanculo nonostante sia morto fantastico ok no messaggi su discord non è il momento arigato anche se probabilmente ora il prossimo corvo che incontriamo direi di salvare oh vuoi andartene sarebbe sarebbe fantastico già 500 riviste sporche ma che diavolo porta 500 riviste non non tu questo è sicuro abbiamo già controllato ecco perché noi terremo voi tre qui spero che e spero che voi abbiate degli ottimi degli ottimi amici sporcaccioni rodriguez rodriguez verrà qui a salvarci amico questa è la nostra ultima possibilità noi non siamo noi non valiamo 500 riviste noi non valiamo 500 riviste sporche rimarrà lì ad aspettarci nella macchina per sempre allora rodriguez eh rodriguez è una macchina hai detto fantastico fantastico ora ora rodriguez lo saprà di sicuro usciamo da qui ma come questa è l'unica cosa di cui io sono capace fa il toro fa il toro fantastico ok eh wow almeno è un buon team almeno questo eh oh pensavo di fregarmi eh ok è una piccola è un punto di salvataggio niente strano che qui non ci sia nulla eh vabbè io anche perché ho visto quel simpatico esatto questo tizio eh jan 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 iron questa è musica di pointless tu 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 che è fantastica secondo me eh ha veramente un ottimo cioè fa capire che c'è scritto lisa oh cacchio non farlo cadere dannato schiaffetto uvs spero che muoia subito ok si nasconde sarebbe bello anche se belt imparasse qualche mossa nuova eh perché 360 scopium credo che sia un po' devoluccia come mossa in verità non lo è neanche però ti alzi ma porca miseria ehm no non è neanche il taunt W WS spero che muoia adesso o spero che ma porca miseria mh tu attacca e tu length spicy per più che cosa fa oh anche dell'adrenalina non so cosa faccio facciamo però un profumo normale oh ho sbagliato ok direi di fare ormai uno skullcracker ehm WS bannato eh ok oh porca miseria si infigia danno però eh è tipo un miniboss o cosa eh ok non mi dimenticherò mai la la revisione della tua macchina babe del tuo motore scusate intimidare ok tocco irritante e niente e niente va bene arsenale modificato cos'è è un'arma ehm si ehm equipaggialo allora si decisamente leggermente meglio di tutto per tutto ehm spero tantissimo di trovare un posto dove salvare ops qui no oh porca miseria ah quello ok hai trovato delle cose cinquantia di vista fantastico aspetta ma che diavolo queste non sono donne sexy sono tipo aeroplani macchine camion e merda ma hanno gambe e braccia e occhi what oh no questa merda è inutile l'hai messo indietro no ma li voglio io aspetta cosa ehm ok salviamo direi di salvare oh avrei dovuto salvare sotto pazienza questo è il primo episodio quindi eh wow sono successo un paio di cose in questo primo episodio quindi se il video vi è piaciuto ragazzi lasciate un bel mi piace commentate iscrivetevi al mio canale saluto che ho fatto iscrivetevi a tutti gli altri canali che ho relati quando vedete il video se vi è piaciuto e quindi noi ci vediamo al prossimo video un saluto salato e ciao iscrivetevi al canale grazie a tutti